L'esperienza più drammatica l'ho vissuta davvero la prima volta che mi hanno portato al mare. A noi di Milano ci portavano in Liguria, Cogoletto, vicino a Arenzano. Una spiaggia di 6 metri quadri, una mattina c'erano 217 mila persone. Ho preso gli schiaffi da una mamma che non era neanche la mia. Io ho detto, scusi signora, ma che cacchio fa? Sono già le 10 e mezza, il mio non lo trovo, qualcuno devo picchiarmi! Mi portavano in spiaggia alle 7 e mezza, 8 del mattino. Alle 9 mi dicevo, mamma, posso fare il bagno? Tre ore dal bombolone! Io sotto l'ombrellone da solo, tutti i miei amici in acqua. Non posso venire! Non vuole, non vuole, ho mangiato il bombolone di merda! Non lo so cosa succede! Mia mamma dice, l'acqua con il bombolone esplode il pianeta! Non lo so! Tutte le mattine è la stessa storia! Ormai mi mangio lo yogurt! Vaffanculo! La colpa non è neanche di mia mamma, è di quel panettiere a testa di... Tutte le mattine che gli passavo davanti. Ciao, bel bambino, vuoi il bombolone? E io come un coglione! Sì, sì! Poi mio padre vedeva che soffrivo verso le 10 e mezza. Amore, facciamo la pista! Sì, tanto il culo è mio per tutta la spiaggia! Avevo delle ferite qui, sembravo San Patrizio. Mia mamma mi metteva una crema lenitiva al mentolo. Mi sembrava di avere il pistolino a Cervinia. Camminavo, sentivo... Me la faccio breve. Mancavano cinque minuti a che io potessi fare il bagno. Giocavo sul bagnasciuga col piedino, così che scappavo dall'ondina. Da dietro vedevo l'ombra di mia mamma con la banana. Io come un coglione distinto la mangiavo. Ve lo giuro, non ho mai fatto il bagno in vita mia.